E' stato Diego Armando Maradona e insieme all'assessore alla comunicazione del comune Monia Liberti a premiare i vincitori della terza tappa del campionato mondiale di offshore che si è svolto nello specchio d'acqua antistante via Caracciolo. Un altro grande evento dunque per la città che verrà visto in tutto il mondo. Le gare infatti saranno trasmesse dalla CNN e da Sky Sport e per un anno le immagini andranno sul circuito degli aerei della compagnia Emirate utilizzata ogni anno da 252 milioni di passeggeri. Non solo però un ritorno d'immagine per Napoli. Gli organizzatori infatti si sono impegnati a piantumare alberi in città in base alle indicazioni che saranno fornite dal comune. L'evento è promosso dal Ministero dello Sviluppo degli Emirati Arabi e da Expo 2020 che si svolgerà a Dubai. È stato proprio Maradona a decretare il vincitore della gara sventolando la tipica bandiera a scacchi simbolo delle grandi sfide tra i bolidi del mare. Maradona dopo aver consegnato il premio al vincitore ha lanciato palloncini e cappellini ai suoi tifosi.